ciao a tutti e benvenuti in un nuovo gameplay di spyro 2 allora premento che prima di iniziare non è che sia nelle condizioni di registrare oggi perché dopo anche ieri che sono quasi rimasto pure senza voce oggi fisicamente non mi sento bene più che altro non so se mi sento raffreddato oppure all'allergia a parte questo rispetto a il c'è un caldo che non potete neanche immaginare però si muore dal caldo oggi allora allora qui è dove eravamo prima sì dobbiamo ricordarci che ballume dobbiamo tornare dopo che avremo imparato a salire le scale ok questo avrete di sparo che mi è sempre piaciuto come si fa sotto acqua a quanto pare sotto acqua non ci va ok dovremo tornare pure qui quindi bene 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 uh finalmente una vita è stato che comunque nello scorso livello non abbiamo trovato manco una vita un'altra un'altra ok penso che non ci sia altro qua spiro questo è il mondo foresta d'estate qui sparsi ci sono i portali che conducono ai molti mondi di avalar disgraziatamente ripto ha preso il castello e noi abbiamo bisogno del tuo aiuto comincia con il recuperare talismani di ciascun mondo in cui ti rechi e allora vediamo se dice qualcosa altro palloncino spiro questo è il mondo foresta d'estate qui sparsi ci sono i portali che conducono ai molti mondi di a no se sono assaggiati prima che allora mo se non si è andata qui Shekin si è andata seffi d'estate qui si è andata sef sef lo Г qui il portale Non scende Quindi saranno tutti di là Allora Ecco qua c'è già uno Beh qua Dobbiamo sbloccare il moto Aspetta forse Indica il tuo stato di salute Espiro Più punti hai Più lucente sarà la libellula Dicevo Praticamente C'è il ricone Quindi forse lui mi sblocca il nuoto Scusa Spiro Mi piacerebbe insegnarti a nuotare Sott'acqua Ma mi piacerebbe di più Impadronirmi del tuo tesoro Quanto vuole Bene 500 gem Che non è che sia Penso che dovremmo fare Quale livello Per avere 500 gem Allora Non c'è nulla Prima di andare nel portale Ho visto che c'è anche sopra L'altra Purtroppo mi sfugge il nome per ora Ma qua c'è un altro portale Ok ne abbiamo due quindi E allora Ciao Spiro Sembri piuttosto agile Ti metto alla prova Vediamo se ce la fai Premi il tasto croce E tienilo premuto Per restare in aria Più a lungo Ok non male Ora per fare il prossimo salto Dovrai volare Premi croce per saltare Poi premilo di nuovo Mentre sei al culmine del salto Per volare Il più lontano possibile Allora Vediamo se qui c'è qualcosa Ok no Ben fatto Ora prova a librarti Premi croce per saltare Poi premilo ancora per volare Alla fine del volo Premi il triangolo per librarti E andare più in alto e distante Molto bene E ora La prova più difficile Metticela tutta Inizia camminando Quindi salta Vola E rimani sospeso in aria Proprio prima di arrivare Sull'orlo della piattaforma Ricordati di usare C'è la sezione destra Di spostare Dei joystick Quando sei in volo C'è la pecca Non vorrei Perché ci perdiamo Un'eternità Dov'è lui? Beh qui è più Perfetto facile Wow Sei un atleta Niente male Ma se io non avessi perso Le mie scarpe da ginnastica Ti farei mangiare La polvere Per il momento Prendi una sfera Per la tua collezione Perfetto Allora Vediamo se dice qualcosa altro Sto facendo una pausa ora Devo riposare Per la grande gara Sul circuito oceanico Ok Vediamo Qui non c'è più nulla No Abbiamo 400 Deve andare a fare Quale livello Come dicevo io Allora Sorgenti Dovemo ricordarci che Dopo che avremo fatto Questo livello Dovremmo tornare Vediamo dentro Sì, 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 sì Allora Ok Ok vi informo che si è bloccato il gioco Cominciamo male Non so perché ma Sembra che da dove l'ho scaricato Semmi difettato Io non riesco a capire perché Non so perché Ma è successo di nuovo Mi sa che dobbiamo saltare proprio sto filmato Stavolta ho salvato tranquilli Facciamo così perché Si continua a bloccare Forse ci sarà quel tratto di filmato Difettato Eh no senza dubbio C'è qualcosa che non va nel gioco Allora Cioè se continua a bloccarsi Dobbiamo terminare il video qua Perché col filmato si blocca Anche se l'ho fatto si blocca tutto Ok boh dico Attendiamo qualche secondo Secondo me non carica Sia guardando il filmato Che saltando il filmato C'è schermata nera Ok niente Non sta caricando il gioco Quindi facciamo così Vi informo che comunque Il video lo terminiamo qua Molto molto breve Aspetto alle altre volte State tranquilli Comunque Penso che il salvataggio Non dovrebbe cancellarsi Dovrebbe cancellarsi Il gioco se lo rimuovo In ogni caso comunque Adesso scaricherò Un altro download Un altro sito Perché sinceramente Un po' lo sospettavo Che andrà a finire così Perché già la scorsa volta Era pieno di bug il gioco E adesso Si è completamente bloccato Bene Spero che la prossima volta Non ci siano problemi Di caricamento E possiamo proseguire Con il gameplay Se riesco E me la sento In giornata Forse registro un altro video Di che risparo Vedremo E niente Per questo video è tutto Mi dispiace Dovevi lasciare Con la schermata nera E con così poco video Perché sinceramente Avevamo potuto fare Tutto questo livello Parte di questo livello Ma purtroppo Sembra che Chi ha messo Questo download L'ha messo Tutto difettato Tiene pieno di bug E senza controllarlo E che dire Per questo video è tutto Spero che il video Vi sia piaciuto E noi ci vediamo Alla prossima Per proseguire Comunque Con questo livello Ciao Ciao